Dunque, oggi interroghiamo Petra. Dimmi la capitale della Libia. Parigi. Adesso voglio sapere quali sono le montagne del Trentino. La catena dei Malai. Ultima domanda. Dimmi la capitale dell'Australia. Non va bene Petra, sediti. Ehi, ciao Petra, come stai? Non ho male, ho tutta la mattina che ho un mal di testa. Perché non ti accompagniamo a casa così ti riposi e ti vedi una bella tassa di testa? Sì, va bene. E se tutto questo non funziona, usa Flash. E che cos'è? Ehm... Tutte i grandi inseribili sulla porta. Può avere molti effetti collaterali. Nausea. Verità di capelli. Diarrea. Funzioni cutanee. Cettida permanente. E molti altri. Ok, grazie per i consigli. Ma credo che arriva solo a casa di Posarno. Okay... Ehm... Sure Grazie a tutti.